Le più attive aspettano sempre... Ma Anna non mi fa domande? No, io evito. Ah, non lo so. Allora ti faccio una io? Sì? Vuoi sposarmi? Ma per carità... Mamma mia ragazzi, è bellissimo questo. Grande, Leo! Mi ha detto di no due volte. Grande, Leo! Questa è una carabatta terribile. Mi deve rispondere. No, no, io sono a casa. Queste cose a casa. Alessandro, stavi dicendo? Niente. Comunque aspetto la risposta. Basta dire di sì, basta. Non è così difficile. Aspetta, ma non so se... Anna non se ne va finché non rispondi. Adesso? E parliamo a casa. Mi sembra serio, eh? Caramba che sorpresa. Va bene. Molto serio, molto serio, Billy. Molto serio. Va bene. No, appunto. Va bene, grazie. Va bene cosa? Va bene cosa? Va bene, sì. Va bene. Un applauso allo studio. Hai visto, sì. Benissimo. Molto vero. Mi è innamorato da tanto tempo e prima o poi doveva arrivare. No, sì, sarà una cosa... Grazie, eh. Grazie. Già che abbiamo preso e Barcellona ci sposiamo, dai. Dai. Una grande festa, proprio. Va bene. Grazie. Ciao. Un bacio. Ciao, ciao. Allora sì, eh. A Milano in Brasile, due volte facciamo. Va bene. Ciao. Va bene. Un attimo di pausa magari adesso. Sì, no, ciao a tutti. Ciao, ciao. Sì, no, c'è la pubblicità. Dopo c'è il sortezzo d'Europa lì. Ciao. Posso abbracciarti? Ti è piaciuta? Bella. Ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Ti è piaciuta? È un pazzo.